Musica Prosegue il lavoro nel Sinodo dei Vescovi, dalla formazione nei seminari all'attenzione a poveri e migranti, sino all'importanza della domenica e della figura della donna. Sono i tre temi più discussi oggi, focus anche sulla riforma della Chiesa. Il Nobel per la pace, in carcere il riconoscimento dell'Accademia delle Scienze di Svezia, è stato assegnato a Nargesa Mohamadi, giornalista imprigionata in Iran e condannata a 31 anni e 154 frustate. Disuniti sui migranti, al vertice dei capi di governo in corsa Granada in Spagna, bilaterali della premier Giorgia Meloni con gli omologhi di Polonia e Germania che avvicinano le posizioni verso un accordo, mentre l'Ungheria resta a distanza e contraria. Campi flegrei, prove di fuga. Sono stati effettuati i primi test per la tenuta dei pronto soccorso dell'area flegrea. In caso di emergenza, domani toccherà l'ospedale di Pozzuoli. Ecologia a due facce, il grido in favore del clima contenuto nell'esortazione apostolica Laudate Deum di Papa Francesco viene raccolto da esperti e studiosi di ambiente ed economia, mentre per la difesa dell'ambiente tornano in piazza i Fridays for Future. 18 e 28, buonasera a tutti voi, bentrovati in apertura. Dunque, la formazione a partire dai seminari, l'importanza della domenica, l'attenzione ai poveri e ai migranti, sono questi tra i temi più ricorrenti nei circoli minori di questa mattina al Sinodo in corso in Vaticano. Andiamo subito in diretta con Cristiana Caricato da Piazza San Pietro. Buonasera Cristiana. Buonasera, ancora in corso la terza congregazione generale a cui partecipa ancora una volta Papa Francesco. Questa mattina, durante il briefing, il dottor Paolo Ruffini, responsabile della comunicazione, ha raccontato quello che è avvenuto nella mattinata, ma soprattutto quello che è avvenuto ieri nei circoli minori. 18 di questi hanno relazionato nell'Assemblea generale, poi ci sono stati 22 interventi liberi. I temi più ricorrenti sono quelli della formazione non solo dei seminaristi, ma anche dei laici, e poi il tema dei ministeri ordinati e non, l'Eucarestia come alimento della Chiesa, l'importanza della domenica nella vita della comunità ecclesiale, e poi ancora migranti, poveri, ruolo delle donne. Sono alcuni dei temi che erano contenuti anche nell'Instrumentum Laboris e che sono già entrati nella discussione del Sinodo. Si è parlato di una Chiesa inclusiva, accogliente, che deve essere sempre più capace di superare le paure. Il metodo è quello che ormai noto, tre minuti di interventi, tre minuti per ogni intervento, quattro interventi di seguito, poi un momento di pausa per lasciare spazio allo Spirito Santo, vero protagonista di questo Sinodo, come ha più volte ripetuto Papa Francesco. Il Papa è intervenuto, secondo indiscrezioni, proprio a proposito della formazione. E si è parlato anche di struttura della Chiesa, della necessità di cambiare alcune strutture dal diritto canonico alla curia. Il Papa poi ha fatto dono a tutti i partecipanti al Sinodo, 351 tra l'altro oggi presenti, di un libretto, Santi Mondani. È un libretto che contiene due interventi più un inedito e che fa riferimento proprio alla santità e al pericolo che invece il Papa giudica gravissimo per la Chiesa di oggi, quello della mondanità spirituale. Per ora è tutto, linea allo studio. Grazie, buon lavoro. E ora il premio Nobel per la pace 2023 che è stato assegnato all'attivista ireniana Narges Mohamadi, una giornalista di 51 anni, in questo momento dietro le sbarre, per 31 anni in tutto, con la pena accessoria di 154 frustate. Il servizio di Barbara Masoli e con Antonio Soviero la situazione delle persecuzioni in Iran. Il Nobel per la pace 2023 ha deciso di accettare il Nobel per la pace 2023 a Narges Mohamadi. Berit Reis Andersen, presidente del Comitato norvegese che assegna il Nobel per la pace, scandisce le motivazioni del premio assegnato all'attivista iraniana 51enne Narges Mohamadi. Per la sua lotta contro l'oppressione delle donne e per la promozione dei diritti umani e della libertà per tutti. Dopo esattamente 20 anni, dunque, il Nobel per la pace torna nelle mani di una donna iraniana. Lei però, Narges Mohamadi, il premio non potrà ritirarlo al momento, visto che è rinchiusa nel carcere di Evin a Teheran, dove si trovano i detenuti politici, e accusata di diffusione di propaganda antistatale. Ora, il Comitato di Oslo chiede che l'attivista venga liberata e che le sia permesso di ricevere il premio. Di condanne, Narges Mohamadi ne ha dovute scontare tante. È stata arrestata ben 13 volte per un totale di 31 anni di galera. Eppure, neanche il carcere è riuscito a fermarla. Dietro le sbarre ha portato avanti diverse battaglie contro l'uso delle torture in prigione e contro la violenza sessuale nei confronti delle donne. Il Nobel a Mohamadi rappresenta molto anche per il suo paese, reduce da un anno di proteste e repressioni dopo la morte di Masha Amini, fermata dalla polizia religiosa, perché non indossava bene il velo. Ne è convinto anche il marito di Mohamadi, Taghi Ramani. Questo premio appartiene al popolo iraniano, dice, e la renderà più coraggiosa nelle sue battaglie. Taghi non vede la moglie da 11 anni. I due figli, che vivono in esilio in Francia, non la vedono da 7 anni. L'ultimo simbolo della repressione del regime degli Ayatollah è questa ragazzina di 16 anni. Si chiama Armita, da tre giorni in coma dopo essere stata pestata a morte dalla polizia morale nella metropolitana di Teheran perché non indossava il velo islamico. Un caso che rischia di infiammare nuovamente l'Iran, dopo l'onda di proteste scoppiate alla morte poco più di un anno fa di Masha Amini, mentre era in custodia della polizia, fermata perché non indossava correttamente il velo islamico. Con pressioni, arresti e censure, il regime sta cercando in ogni modo di nascondere la verità sul caso Armita. Ieri è stata arrestata la madre perché ha contestato duramente le forze di sicurezza che non le permettevano di entrare nell'ospedale dove è ricoverata la figlia. Dalla morte di Masha, le proteste si sono diffuse dalla sua città, Saqqez, in tutto l'Iran e hanno dato vita a un movimento antigovernativo che è stato duramente represso con circa 500 morti e 20.000 arresti. Oltre alla repressione, le autorità iraniane hanno cercato di rafforzare l'obbligo dell'Ijab per le donne. Il 21 settembre il Parlamento di Teheran ha approvato una nuova legge che prevede pene ancora più severe per le donne che non indossano il velo. Ma nelle grandi città l'ordine viene spesso ignorato. E intanto in Ucraina si continua a combattere. Colpita per il secondo giorno consecutivo la regione di Kharkiv è stato ucciso un bambino di 10 anni insieme alla nonna, Maurizio Lischino. La regione di Kharkiv ancora sotto attacco. Le forze russe questa mattina hanno lanciato due missili Skander sulla città di Kharkiv ad ovest dell'Ucraina. Uccisi un bambino di 10 anni e sua nonna di 68 anni, 28 le persone ferite. Un missile ha colpito una strada ed ha danneggiato le infrastrutture e le finestre delle case vicine. Il secondo missile ha centrato un condominio di tre piani provocando un incendio. Stiamo verificando casa per casa poiché si tratta di una zona residenziale nel centro storico della città. C'è molta distruzione, circa 25 condomini sono senza finestre, ha riferito l'amministrazione militare regionale. Sempre oggi l'alto commissariato ONU per i diritti umani ha inviato una squadra nella regione di Kharkiv per parlare con i sopravvissuti e raccogliere maggiori informazioni sull'attacco aereo sferrato ieri contro il villaggio ucraino di Rosa. 52 le persone uccise in uno dei più sanguinosi attacchi nella regione dall'invasione russa di oltre 19 mesi fa. L'ONU ha constatato di persona l'impatto terribile di tali attacchi, è profondamente scioccata ed ha condannato gli omicidi. Le scene spaventose nel villaggio di Rosa, nella regione ucraina di Kharkiv, sottolineano ancora una volta il terribile prezzo che i civili stanno pagando, ha dichiarato Elisabeth Trossel, portavoce dell'ufficio dell'alto commissariato ONU per i diritti umani. Un missile russo, ha aggiunto Trossel, ha colpito un bar del villaggio, dove la gente si era radunata per una veglia funebre. Dopo l'attacco di ieri sono stati annunciati tre giorni di lutto nella regione di Kharkiv. Sostenendo l'Ucraina, scongiuriamo il pericolo di un conflitto dai confini imprevedibili. Sono le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, parlando di Ucraina al vertice di Arrayolos in corso a Porto. Se l'Ucraina cadesse, ha aggiunto il Capo dello Stato, assisteremo ad una deriva di aggressioni ad altri paesi ai confini con la Russia e questo, come avvenne nel secolo scorso tra il 1938 e il 1939, condurrebbe a un conflitto generale e devastante. E intanto continuano gli sbarchi in Europa. 500 migranti hanno raggiunto le coste delle Canarie, mentre a Lampedusa si lavora per alleggerire il centro di accoglienza dell'isola. Petrice Bossi. Lampedusa si svuota dopo il trasferimento di un centinaio di migranti. Questa mattina al centro di accoglienza sono rimaste solo 51 persone. L'ondata migratoria adesso si dirige verso la terraferma. Le organizzazioni del terzo settore si preparano a riceverla e già registrano numeri da record, come dice anche l'Associazione Baobab di Roma. Tutto da quest'estate i numeri degli ospiti al presidio informale sotto le mura del verano è aumentato. Naturalmente si tratta di persone che per la stragrande maggioranza non si fermano nel nostro paese ma sono persone in transito che hanno necessità appunto di essere supportate almeno per il tempo di passaggio. Coperte, cibo, scarpe, vestiti e cavetti per il cellulare. L'Associazione ha lanciato un appello alla donazione trovando la pronta risposta dei romani. Quindi abbiamo richiesto all'Associazione, alla cittadinanza di poterci dare un contributo in termini di donazioni e la risposta c'è stata, è stata buona, c'è stata comunque un'ondata di solidarietà. Intanto a Lampedusa questa mattina un altro barchino con 40 migranti a bordo è stato tratto in salvo dalla Capitaneria di Porto. Sono partiti dalla Tunisia per scappare dalla guerra e dalla fame. In Europa per loro comincia un nuovo futuro. La strage di Mestre, il bus, urtò 27 volte contro il guardrail prima di precipitare. Prosegue l'inchiesta della Procura di Venezia che sta cercando di ricostruire in ogni dettaglio la dinamica dell'incidente. Antonella Mazzatero. Questa mattina sono tornati sul luogo dell'incidente di martedì sera gli agenti della Polizia Locale di Mestre per eseguire nuove verifiche sul varco dove è caduto il pullman con a bordo turisti stranieri di rientro da Venezia. Prima di precipitare dal cavalcavia il mezzo ha toccato diverse volte il guardrail. 27 i punti di contatto e le strisce lasciate sulla barriera. Tra le ipotesi degli inquirenti è un malore del conducente ma si attende ancora l'esito dell'autopsia sul corpo dell'autista, unico italiano tra le 21 vittime. Le salme sono ancora all'obitorio dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. Entro domani è atteso l'arrivo degli ultimi familiari e i rimpatri nei paesi di origine sono previsti da domenica prossima. C'è la disponibilità del Comune di Venezia a sopportare le spese di alloggio delle famiglie ma anche per il rimpatrio delle salme. Intanto sono stabili in via di miglioramento le condizioni dei 15 feriti di cui tre gravi ricoverati negli ospedali del Veneto chiedono dei loro cari ma non parlano dell'accaduto e sono ancora sotto shock coloro che tre giorni fa hanno prestato i primi soccorsi sotto al cavalcavia di Mestre. Alcuni di loro hanno dei sintomi, dei veri e propri sintomi in questo momento con flashback, ansia, difficoltà a dormire e si sono già rivolti a noi per questa cosa. Per cui abbiamo trovato persone davvero molto disorientate, scioccate dalla situazione ma anche disponibili a chiedere aiuto, disponibili e anche consapevoli di aver fatto una cosa corretta e giusta. Sono stati effettuati i primi test per la tenuta dei pronto soccorso dell'area Flegrea in caso di emergenza. Domani toccherà l'ospedale di Pozzuoli. Lucia Ascione. L'ospedale di Giuliano in Campania pronto soccorso ore 10 senza interruzione delle attività di triage e di prima assistenza si effettua il primo stress test per la tenuta della macchina organizzativa in caso di emergenza. Impiegati e volontari dell'ASRA Napoli 2 Nord come comparse, il resto è tutto come potrebbe andare se davvero ci fosse una calamità e il conseguente surplus di lavoro per il personale del nosocomio. L'esercitazione che mette sotto stress un pronto soccorso dove concentra in un periodo di tempo limitato un certo numero di criticità di pazienti critici, quindi con codici diversi. Inevitabile riferimento a ciò che potrebbe profilarsi all'orizzonte se mutasse l'attività vulcanica dei Campi Flegrei. In realtà questa è una situazione di massiccio flusso senza l'evacuazione dell'ospedale, perché potrebbe accadere, noi ci auguriamo di no, di dover evacuare l'ospedale e contestualmente organizzare un ospedale, un pronto soccorso di prima emergenza fuori. Con l'esercitazione di oggi a Giuliano, zona rossa fratta maggiore, zona gialla domani a Pozzuoli, iniziano a prendere corpo le strategie di prevenzione e formazione emerse anche nel decreto Campi Flegrei, approvato dall'esecutivo, nonostante l'iniziale poi risolta diffidenza degli utenti in attesa di visita. Tutto quello che per noi è preparazione, è un momento di esercitazione, è qualcosa che servirà poi per diventare più, possiamo dire, performanti su una particolare caratteristica e capacità. Aumentano i reati sui minori, ma molti restano nelle pieghe del silenzio. La denuncia nell'ultimo rapporto di Terre des Hommes. Nicola Ferrante. Record di reati a danno di minori in Italia emerge dall'ultimo report dal titolo Indifesa, pubblicato oggi da Terre des Hommes su dati 2022. I casi elaborati dalla Direzione Centrale Polizia Criminale sono stati 6.857 con un drastico aumento del 10%. Il peggioramento riguarda alcune voci, tra cui i crimini a danni di minori in aumento del 34%, le violenze sessuali cresciute del 27%, su anche l'abuso dei mezzi di correzione e disciplina del 17% e l'abbandono di minori o incapaci del 13%. La grande prevalenza delle vittime sono bambine e ragazze. L'aumento dei reati che coinvolgono i minori e delle violenze che subiscono i minori è allarmante e deve allarmarci tutti quanti. Cittadine, cittadini, genitori, insegnanti, educatrici, educatori e politici. Come la ricerca scientifica ha dimostrato, questo tipo di situazioni non solo creano un disagio nel presente del minore, ma ostacolano e alterano lo sviluppo dell'individuo nel futuro. È importante pertanto che i genitori, i cittadini, le persone familiari ai minori del mondo sociale in cui vivono i minori siano consapevoli e riescano a cogliere i segnali che dimostrano che un bambino, una bambina, un ragazzo o una ragazza sta in una situazione di difficoltà e possano offrire ascolto e supporto e aiuto quindi ai minori che si trovano in queste difficoltà. Al Via, l'11 ottobre, giornata internazionale delle bambine, la campagna Mettiti nei suoi panni per invitare tutti a mettersi letteralmente nei panni delle vittime di abusi. Il grido in favore del clima contenuto nell'esortazione apostolica Laudate Deum di Papa Francesco viene raccolto in concreto da esperti e studiosi dell'ambiente e dell'economia. Sentiamo Rita Salerno. Una nuova pagina nell'impegno per la cura della Casa Comune l'esortazione apostolica Laudate Deum pubblicata due giorni fa segna un ulteriore passo in avanti che va ad integrare la Laudato Si di otto anni fa. Ora è importante che negli studi soprattutto teologici ma non solo questi documenti del Vescovo di Roma vengono studiati, approfonditi e anche posti all'attenzione dell'opinione pubblica e dei ragazzi, degli studenti. Un documento che chiama in causa tutte le persone di buona volontà per rispondere alla sfida del cambiamento climatico. In particolare è importante che questo documento trovi il suo aggancio nella riflessione che noi tutti continuiamo a fare all'interno per esempio delle facoltà teologiche sulla creazione. E per la difesa dell'ambiente c'è chi scende in piazza come i giovani dei Fridays for Future. Alessandra Camarca. I giovani tornano in piazza con una nuova mobilitazione nazionale per il clima. Torino, Roma, Milano e Bolzano sono solo alcune delle città dove gli attivisti di Friday for Future sono scesi in piazza per pretendere che la crisi climatica venga affrontata più presso dalle istituzioni. Quello odierno non è stato un classico sciopero per il clima perché la manifestazione promossa dai giovani ambientalisti questa volta ha preso connotazioni ancora più politiche. Le decine e decine di cortei nelle varie piazze d'Italia vogliono essere un atto di resistenza climatica come l'hanno definita i partecipanti dichiaratamente contrarie all'operato del governo attuato finora in termini di politiche climatiche. Non che il governo precedente abbia fatto dei grandi passi avanti ma specialmente con questo governo stiamo facendo dei grandi passi indietro. Vedi il piano Mattei che fa sì che il governo invece di puntare su una diversificazione delle fonti energetiche tutte sostenibili punta invece sul staccarsi completamente dal gas russo ma andando a prenderlo da altre parti soprattutto finanziando anche situazioni di governo dove i diritti umani non sono rispettati. L'appuntamento di oggi è stato nelle intenzioni dei promotori un primo assaggio per far comprendere la coesione all'interno dei vari movimenti che oggi in Italia si battono per la giustizia climatica e la lotta a riscaldamento globale presenti in piazza anche esponenti degli enti locali direttamente coinvolti nel futuro green dei loro territori. Crescono i pagamenti elettronici un'alternativa sicura e tracciata rispetto all'uso del contante a cui anche a causa della pandemia gli italiani si stanno sempre di più abituando. Luigi Ferraiolo. Prima la stagione turistica adesso lo scorso finale del 2023 confermano la crescita costante dei pagamenti digitali in tutta Italia con la diminuzione dell'uso del contante. Le transazioni digitali sono aumentate in tutte le province e gli scontrini per il contante sono in calo quasi dappertutto. Il solo territorio incontro tendenze è Rovigo in cui il contante non solo continua ad usarsi parecchio ma anzi in aumento. I dati relativi al turismo primaverile avevano anticipato il trend dei pagamenti senza contanti i dati relativi al turismo primaverile avevano anticipato il trend dei pagamenti senza contanti e la stagione estiva lo ha ribadito soprattutto alla luce del ritorno in Italia dei turisti stranieri generalmente più abituati ai pagamenti con carta. In testa le province con l'aumento più elevato di transazioni senza contanti ci sono Forlice e Sena Benevento e Piacenza. All'Odi si trova lo scontrino digitale più basso Arribo Valencia il più alto. Da oggi le spoglie di San Pio X potranno essere oggetto della devozione dei pellegrini e dei fedeli nella sua treviso. È la prima volta nella millenaria storia della Chiesa che accade una peregrinazio a tappe di questo genere per poi proseguire nel padovano e nel veneziano. Adesso ritorniamo a Roma perché c'è una novità per l'inquilino del Quirinale ma anche per la storia della Repubblica. Qual è? Lo scopriamo con Letizia Davoli. Al Presidente della Repubblica! Con 3.167 giorni di servizio da garante della Costituzione Sergio Mattarello 82 anni è l'inquilino del Colle più longevo nella storia della Repubblica. Batte infatti il record che è stato finora di Giorgio Napolitano rimasto nelle stanze del Fu Palazzo dei Papi per 3.166 giorni. Un record che arriva dopo la seconda rielezione giunti inaspettate il 22 gennaio 2022 quando ormai l'ex Presidente pensava già ad una vita più tranquilla rispetto a quella di un capo di Stato. È per me una nuova chiamata in attesa alla responsabilità alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi. Queste attese sarebbero state fortemente compromesse dal prolungarsi di uno Stato di profonda incertezza politica e di tensioni e di tensioni le cui conseguenze avrebbero potuto mettere a rischio anche risorse decisive e le prospettive di rilancio del Paese impegnato a uscire da una condizione di gravi difficoltà. Leggo questa consapevolezza nel voto del Parlamento che ha concluso i giorni travagliati della scorsa settimana travagliati per tutti anche per me. La consapevolezza delle difficoltà del Paese disse nel suo discorso di insediamento il 3 febbraio 2022 furono i motivi del suo sì. Un rinnovato impegno che seguiva un primo settennato segnato dalla più grande crisi sanitaria del pianeta che aveva ricordato in quello che pensava sarebbe stato il suo saluto al Paese in occasione del discorso di fine anno. Sono stati sette anni impegnativi complessi densi di emozioni mi tornano in mente i momenti più felici ma anche giorni drammatici quelli in cui sembravano prevalere le difficoltà e le sofferenze. Non poteva immaginare allora che anche il secondo mandato avrebbe vissuto una crisi internazionale senza precedenti che avrebbe minato le radici stesse dell'Europa una guerra che rende il suo sì ancora più pesante da portare. Da Roma all'Umbria Economio Francesco incontro ad Assisi sui passi di una presenza umana nella società più sostenibile e rispettosa. L'inviato Vittorio Torre. Gioveni economisti imprenditori docenti universitari è l'Economio a Francesco incontro internazionale promosso appunto da Papa Francesco l'obiettivo è ragionare insieme su un'economia sostenibile e che metta al centro temi quali le disuguaglianze il lavoro la pace la sicurezza alimentare la crisi ambientale tre giorni di dialogo nell'Istituto Serafico di Assisi un evento online per dar modo ai giovani di tutto il mondo di partecipare al confronto consapevoli che una nuova economia dettata non solo dal profitto è la premessa fondamentale per la tutela del creato per la lotta alle disuguaglianze. L'economia riguarda tutti quindi bisogna sapere che oggi non si troverà una soluzione a questi gravi problemi siamo già nella 25esima ora le 24 sono finite non si possono avere problemi senza un cambiamento serio grosso forte degli agenti economici noi possiamo aspettarci troppo dalla politica dalle leggi dobbiamo cambiare noi come consumatori come risparmiatori come produttori l'economia di Francesco mette i poveri al centro con la questione dei poveri l'economia non può non confrontarsi però una cosa è metterli alla periferia e d'arrivarci considerando gli ultimi altra cosa è metterli al centro e organizzare società ed economia tenendo conto di loro l'economia di Francesco l'economia civile è conosciuta però non tanto e io vorrei portarla anche come gli altri change makers i miei colleghi qua dappertutto anche in Congo nel tuo paese certo anche in Congo a Napoli è stato celebrato l'ottantesimo anniversario delle quattro giornate di Napoli occasione in cui il gonfalone del comune di Napoli è stato insignito della croce d'oro al merito dell'arma dei carabinieri le quattro giornate di Napoli che ebbero luogo tra il 27 e il 30 settembre del 1943 rappresentano uno dei momenti più significativi nella storia moderna dell'Italia in cui la popolazione napoletana unita nella resistenza contro l'occupazione nazista dimostrò una resilienza eccezionale lottando per la propria libertà e per il futuro dell'Italia bentornati nello studio della TG2000 era convinto che il suo medico curante avesse sbagliato le cure e per questo lo ha aggredito riducendolo in fin di vita è accaduto a Roma all'interno di uno studio medico l'immunologo è Francesco Lefo che è noto anche per la sua attività durante la pandemia da Covid il 36enne autore dell'aggressione è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio ed è tutto vi lascio alla Meteo poi alla Santa Messa il TG2000 torna alle 20.30 grazie del vostro tempo e a più tardi buonasera grazie a tutti